ci sono quelle cose che poi dopo ti lasciano basito, rimani scioccato, io sono rimasto scioccato io ti dico solamente una cosa, come ho detto l'altro giorno vediamo quale sarà lo sponsor vediamo cosa succede nelle prossime due settimane proprio in termini di mercato però c'è una cosa che siccome questa è una società allo sbando attualmente perché questa attualmente è una società allo sbando, è in sicurezza economica, sono tutti tranquilli quelli dei CDA, non sono matti a stare in una situazione del genere vedremo poi Zang come farà a garantire ad ottobre la continuità aziendale se quei 100 milioni che gli sono rimasti del prestito basteranno per far sì che lui possa garantire la continuità aziendale vedremo come farà ma a leggere sui giornali, sui portali web nelle ultime ore che è normale, vanno presi le pinze perché poi ti ritrovi quello lì che ti dice all'Inter interessano tutti tranne Turam e poi il giorno dopo Turam arriva all'Inter Conte all'Inter, ne abbiamo sentite di ogni negli ultimi due mesi dai soliti fuoriclasse ma io ti parlo di quelli che si spacciano per professionisti ma a parte questo ho sentito una roba che non mi piace perché qui, capito, quando sei con l'acqua alla gola quando devi sopravvivere a volte puoi fare anche delle mosse disperate proprio perché ormai è finito tutto devi cercare di galleggiare fino a quando non si sa ma secondo me per molto poco ma ragazzi vendere Onana per Lukaku è da querela ma di cosa stiamo ragionando? ma seriamente secondo me è una delle tantissime cose che vengono scritte senza nessun fondamento e senza nessun senso, cioè ma ti rendi conto vendere Onana per Lukaku? ma siamo pazzi cioè l'Inter vorrebbe investire 40 milioni su Lukaku ma vi sembra una cosa normale a voi oppure no? giusto ci serve il centravanti, ho capito ma vai a spendere 40 milioni su Lukaku? con i pagherò il prossimo anno poi te lo ridò fra tre anni cioè ragazzi ma allora forse non ci siamo abiti Lukaku per come la vedo io e qui lo so che lo so che vado contro tante idee ma io non ho problemi perché non sono qui a cercare consensi io non sono su Youtube a cercare consensi perché è facile trovare consensi accontenti un po' tutti segui la scia dell'onda segui il vento accontenti tutti su Youtube fai iscritti fai vision a me non mi interessa io sono qui per dirti la mia Lukaku non è più il giocatore di due anni fa a parte si vede gli ha cambiato proprio il metabolismo un giocatore che va a sprazzi negli ultimi due anni Lukaku ha fatto 20 gol quindi a chi dice ci serve il bomber dove l'hai visto il bomber quest'anno? dove? vuoi ti parli di il gol che ha sbagliato davanti al portiere in finale di Champions League? dove? vuoi ti dire ci ha fatto salutare da Pastorello? come l'ha accolto la curva Lukaku? voi avete in testa il Lukaku di Conte che non tornerà mai più e vendere siccome qui manca un centro avanti quando sei nella disperazione sei poco lucido capito? io non ti dico ci sta che lo compri ma sarebbe una roba vergognosa vendere un'ana per Lukaku e da querela siamo pazzi quest'anno Lukaku lascia perdere quello quel cialdratano che ti diceva che aveva un'infiammazione al tendine e poi se l'era rotto lascialo perdere quello lì ha fatto 14 gol quanti rigori ha battuto? quante presenze ha fatto? la vogliamo valutare la stagione di Lukaku o no? quanti? allora te lo chiedo io a te te lo chiedo io a te gol decisivi Porto poi? poi? quante presenze ha fatto? quanti gol ha fatto? e nei gol quanti rigori ci sono stati? questo devi alcolare te vendere un'ana per Lukaku è una di quelle puttanate colossali non esiste io perché poi ragazzi quando i professionisti che vanno su youtube dite le cose a dicembre comincia la coppa d'africa è vero che un'ana non ci sarà per tanto tempo ma non vuol dire che tu lo debba vendere ma lo puoi anche vendere ma non per prendere Lukaku visto che qui c'è da rifare mezza squadra tornando al discorso della difesa dove a parte Bistecca Ligue Bistec chi cazzo è? non lo so sicuramente diventerà un fenomeno me lo auguro per l'Inter hai tutti hai tutti i centrali vecchi di 35 36 34 il più giovane De Vrij che va per i 32 ma sono quasi tutti difensori di lettura quelli che ha l'Inter ad oggi l'Inter ha quasi solo ed esclusivamente difensori di lettura capito? non c'hai più Skrignar attenzione non c'hai più Dzeko attenzione c'hai Mkhitaryan un anno più vecchio attenzione stai attento non c'hai più Brozovic attenzione perché poi ci si rimane male attenzione perché poi ci si rimane male se dai via con Ana per vendere Brozovic fai una di quelle frittate che te non te ne rendi conto ci sono altri profili non avete idee ragazzi voi al Niter non avete idee o si va dai Sassuolo o si riprendono i giocatori che sono stati al Niter ma ce l'avete qualche idea perché a vendere Barella e Lautaro so buono anch'io andare dai Cagliari e pagare 50 milioni Barella so buono anch'io vai a vendere Gosens vendi Ballerino se ti riesci perché comprare Correa 30 milioni so buono anch'io l'hai capito o no? vendere bastoni sono buono anch'io vi dovete far venire fuori le idee ma cosa rompi i coglioni con Lukaku? il giocatore che va a sprazio ormai è il cugino di quello che era con Conte e Pintuz ma di cosa stai ragionando te? ma le guardi le partite? a centrocampo uguale centrocampo uguale te potevi giocare con Brozovic e Cicciolanoglu perché hai Barella che ti dà tanta intensità ma guarda perché la gente dice ma Brozo Brozo e Ciala possono giocare perché c'è Barella che dà una intensità l'intensità te la dà anche Brozovic in un'altra maniera non come te la dà Barella quindi andato via Brozovic te lo ripeto serve uno e ti dia intensità fisicità e tecchia e non li trovi a giro questi centrocampisti se non hai i soldi perché se vai a rovistare nella spazzatura o vai dai Sassuolo a parte ragazzi ma a chi Sassuolo Frattesi giocatore che a me piace tanto ma sento parlare di 40 milioni ma dove cazzo siamo arrivati? 40 milioni Frattesi ma Gentium Estankovic Snyder ma quanto valeva? 200 milioni oggi Gentium Etiagomotta quanto valeva? 800 milioni ma di che cazzo state ragionando? 40 milioni Frattesi per riscattare Lukaku 50 milioni ma di che? ma dove vuoi andare con i cinese che è costretto a fare queste operazioni per galleggiare non si sa qua che settimana un mese due mesi tre mesi dove vuoi andare? vendere un'ana per comprare Lukaku è peggio della storia di Sedorf è peggio della storia di Pirlo è peggio di tutto quello che ha fatto l'Inter fino ad oggi perché se te compri Lukaku e vendi un'ana io te lo dico fai un buco nell'acqua clamoroso te lo dico prima come ho detto per Gosens per Correa come lo dissi per Vidale e come l'ho detto per tanti altri giocatori perché ora mi cominciano a girare i coglioni ho detto stiamo calmi una bella sega ora mi cominciano a girare i coglioni perché qui non si ragiona più con la testa ormai qui si sta dando di Barta come si dice in Toscana ciao amici grazie a tutti